Buongiorno lettrici e lettori, io sono Michela, benvenuti in un nuovo video, video con i danni fatti al Salone del Libro di Torino. Infatti sono stata al Salone tutti i giorni, in realtà sono stata a lavorare, a fare il firmacopio allo stand e ho avuto pochissimo tempo libero e ho fatto questi danni. Meno male che non sono stata lì 6 giorni a fare acquisti, altrimenti addio. Va bene, benissimo, cioè bene, benissimo per dire. Comunque andiamo a vedere cosa ho acquistato in questi giorni. Primo acquisto fatto, fatto praticamente appena arrivata, praticamente prima dell'apertura giovedì del Salone del Libro, a Libraccio ho trovato praticamente nuovo ma pagato come usato nella vita di Burattini, di TJ Clan. Ho deciso di recuperare tutti i libri di quest'autore, ne abbiamo parlato nel video del suo Wolfsong e quindi ce l'ho tutti in Wishlist. Avendo trovato questa al libraccio praticamente l'ho pagato 10,45 euro anziché quanto viene questo libro? Sicuramente il doppio, almeno il doppio e niente, potevo lasciarlo lì, ovviamente no. Comunque guardate che meraviglia, è praticamente nuovo ma appunto vedete pagato come l'ho usato. Non so niente se non che si ispira alla storia di Pinocchio che a me non piace. Ma ci fidiamo dell'autore e ce lo andiamo a leggere. Ma dopo Wolfsong bisogna leggersi tutto comunque di questo autore e niente, questo finalmente l'ho recuperato a circa 500 pagine. Lo leggeremo sicuramente molto presto. Altro acquisto fatto abbastanza velocemente, sempre lì al Salone del Libro, allo stand di Castoro Offo, è When the Dark Stand Still, di A.B. Polanek. Ne abbiamo parlato nelle uscite del mese, ero molto curiosa, volevo questa edizione. A prescini da quello che ci sarà all'interno, mi hanno detto, vi avevo preannunciato che era qualcosa che è molto simile alla Bella e la Bestia, mi hanno detto che non c'è tra niente con la Bella e la Bestia, in realtà non me ne frega niente, è talmente bella l'edizione che dovevo averlo. Sarà un libro bello oppure no? Non ci interessa. Però lo leggeremo sicuramente molto presto. Guardate che bella la cover, è qualcosa di fenomenale. è un libro che ha un bel prezzo, infatti l'ho pagato 24 euro, guardate che belle le pagine, guardate che meraviglia, bellissime, però l'edizione le vale tutte. Sotto la sovracoperta è fatto così e guardate che meraviglia il libro sotto, è qualcosa di fenomenale, davvero bellissimo. All'interno c'è questo segnalibro, spettacolare, e niente, è splendido. L'edizione è veramente pazzesca, pazzesca. Ed ha circa 400 pagine. Anche questo lo andremo a leggere e in realtà, ripeto, sia che sarà una delusione dal punto di vista letterario, è talmente bello esteticamente che comunque farà la sua figura in libreria, quindi bene così. Allo stand Tora, cioè quella del mio editore, ho preso Le Cronache di Florence Elden, che è il primo del prequel. Sono due libri del prequel, poi è uscito il primo libro della saga vera e propria e questo è il primo libro del prequel, ma l'autrice Marisa mi ha detto comincia dall'inizio e quindi ci fidiamo dell'autrice e abbiamo preso il primo, l'ho anche cominciato. In realtà non è light novel, non ho mai letto light novel in vita mia, sono molto lontane dai miei gusti letterari, ma dovevo assolutamente leggerlo, quindi staremo a vedere. L'ho iniziato, sono circa pagina 60 più o meno, ho anche la dedica all'interno e sono circa 300 pagine. Comunque vediamolo, questa è la cover e questo è il retro ed è uscito al costo di 16,90 euro in questa edizione brossurata. Insomma staremo a vedere, non ho mai letto light novel, è la prima, staremo a vedere che succede. Altri acquisti fatti al salone del libro, l'avevo già visto, ne abbiamo parlato nel video delle uscite del mese, l'avevo detto che l'avrei preso al salone e infatti eccolo qua. Megalo, olio e sangue, edito Lumian di Enzo De Simone. In realtà allo stand Lumian avrei voluto comprare tutto, ma non avevo i bagagli. L'anno prossimo andrò con un trolley vuoto e quindi mi sono dovuta accontentare di quello che desideravo maggiormente allo stand, ma io l'avevo detto che l'avrei preso. Eccolo qua, vediamolo. Oltretutto mi hanno dato anche lo sticker, questo, però vediamo questo, questo libro insieme. Eccolo qua, guardate che cover. Di cosa parla? È ambientato in un mondo simile all'antica Roma, ci sono i Mecia, c'è lui che merita. Io avevo bisogno di sapere altro? No. Ah, so anche che c'è una storia d'amore all'interno. Credo che non avessi bisogno di sapere nient'altro. Questo è uscito al... Ah, c'è anche il segnalibro all'interno. Ah, che meraviglia. Che meraviglia. Questo è uscito al costo di, adesso ve lo dico, 17 euro, inflessibile da circa 400 pagine. Molto felice di aver fatto questo acquisto, a prescindere, lo devo ancora leggere, ero molto curiosa. Però bisogna fare i complimenti alla Lumian per le edizioni splendide e anche l'atmosfera che si sentiva allo stand. E niente, alla fine io lo so che recupererò tutto il catalogo Lumian piano piano. Ma cominciamo da lui, che già so che amerò, ma anche Anatomia del Fantasy. Volevo recuperare, ma ho detto ho finito lo spazio in valigia. Malgrado avessi finito lo spazio, ho fatto anche altri acquisti. Infatti, quelle della quina edizione, ma perché ci fate queste sorprese meravigliose? Hanno portato in Italia Ben Anderson. Potevo io non andare ad acquistare questo libro che è il secondo della saga, in realtà questo uscirà a giugno. Il primo è nel mio tablet da un po'. In realtà l'avevo preso in qualche offerta e sto cercando di recuperare anche l'edizione da collezione inglese. C'è un'edizione, non so se è da collezione, comunque c'è un'edizione bellissima inglese. Comunque, c'era l'autore, potevo io non farmelo scacciare, a parte che lui è meraviglioso, cioè ben ti adoro. Mi ha fatto la dedica all'interno del volume e questa è l'edizione italiana. Ecco, su questo devo fare una nota. Grande Queen edizioni che ci ha portato l'autore, è uscito a costo di 17,90€. L'edizione è molto bella, ma le cover inglesi sono qualcosa di pazzesco. Infatti, lo recupereremo anche nell'edizione che ho puntato. Ovviamente. Volevo acquistare anche il primo, riacquistare anche il primo e niente, ma presa dall'entusiasmo di avere il pen, non mi sono resa conto di aver preso solo il secondo, perché sono una tonta. E va bene così. Però, grande Queen edizioni che ce l'ha portato in Italia. Grande gioia avercelo lì, era lì carino lo stand che stava lì aspettando noi lettori per farci autografare. Ah, ma c'è anche il segnalibro, non l'avevo visto. Mera, un sacco di segnalibri splendidi questo salone del libro. Comunque, grande Queen edizione, grazie. Non ti ringrazieremo mai abbastanza per questa gioia splendida. Dai. fai. Infine, dovevano essere finiti i miei acquisti e invece, niente, ho fatto un giretto, mai, mai, mai andare al local, per, giusto così, ho detto, ma andiamo a vedere lo stand di Abeditore. Ma solo a vedere, perché tanto di Abeditore, voi lo sapete, se mi seguite, ho praticamente tutto. Non avevo visto le nuove uscite di Abeditore. Era meglio non vederle? No, era meglio vederle, perché ho fatto danni. Ho fatto danni. Ma mannaggia a loro, hanno pubblicato Il fantasma dell'opera di Gaston Leroux. Libro che io ho già in libreria da qualche parte. Libro meraviglioso, molto diverso rispetto al film musical uscito, quindi non vi aspettate quello. È molto, molto diverso, meraviglioso comunque. Romanzo fantasmagorico, letteralmente. E potevo io non avere questa edizione? No, non potevo io non avere questa edizione che è uscita al costo di 20 euro ed è qualcosa di... ragazzi. Vabbè, ma lo sappiamo. Ah, ma qui c'ho un sacco di gadget che non avevo... Un sacco di gadget, meraviglioso. Lo sappiamo che Abeditore è una gioia per gli occhi. Vabbè, 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 che ne parliamo a fare? Vediamo che mi hanno messo... No, vabbè. L'articoletto di giornale con Christine Andai. Che meraviglia. Bellissimo. No, vabbè. Bellissimo, bellissimo tutto. Il biglietto per il Fausto. Ma che splendido, splendido. Eccolo qua. E l'invito. No, vabbè. Ragazzi, cioè, io non l'avevo visto queste cose, ma adesso bianco. Che meraviglia. Ho preso anche la targhetta con il Fantasma dell'Opera che avevano lì allo stand. Io ho preso anche sempre di Castollerux, che non ho letto, i racconti terrificanti. Una raccolta di racconti uscita al costo di 15 euro. Sempre il stesso autore, ma tanto li ameremo. Li ameremo per forza. E no, vabbè, vabbè, che meraviglia. Queste edizioni sono qualcosa di fenomenale. fenomenale. Bello. Bello tutto. Bello, meraviglioso. Meraviglioso. Sono troppo felice. Queste hanno circa 200 pagine. Vabbè, queste sono sicuramente letture che farò quest'estate. E insieme a tutto ciò, insieme a tutto ciò, mi hanno regalato anche la tote bag. Guardate che bella di Castollerux. Ma, cioè, vabbè. Abeditore, io vi amo. Vi amo alla follia. Vi amo di più se mi riportate le box di Halloween. Però non è vero. Vi amo comunque. Meraviglioso. Ultima cosa riportata. Non è un acquisto, ovviamente, dal salone del libro che voglio mostrarvi. È il mio. Per una volta tanto non parlo mai delle mie cose su questo canale. Però ho recuperato. L'editore mi ha dato una copia anche del mio. Il mio Omnibus Graphic Novel che ho realizzato. Quindi c'era anche questa in valigia, giusto per aumentare il peso. L'anno prossimo si va con una valigia a sé. Comprerò un carrellino, quelli della spesa, solo per portare. No, carino, la spesa non entra, no. Un'altra valigia solo per i libri. Ma insomma, voi ci siete stati al salone del libro? Se sì, fatemi sapere i vostri acquisti. Se no, se non siete stati, sicuramente il vostro portafogli ne avrà beneficiato, perché niente è così. Fatemi sapere se, insomma, vi interessa qualcuno di questi acquisti, se qualcosa che ho comprato vi stuzzicava. Se voi avevate puntato altre cose rispetto alle mie. io, in realtà, diciamocelo, ma questo avremmo puntato tutto, ma bisogna fare una scelta nella vita e non si può avere tutto. Quindi ci accontentiamo dei tanti e questi fatti che, insomma, erano decisamente più del previsto. Avevo fatto una piccola listina di tre titoli e niente. È andata così. È andata così. Oltre ai regali, che non vi ho mostrato, perché ho preso anche qualcosino, qualche libro da regalare. Però, insomma, è andata così quest'anno. Questo è tutto. Con questo io auguro buona lettura a voi, buona lettura a me e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!